Sono passati nove anni ma la ferita è ancora aperta, soprattutto per i familiari che sentono che giustizia non è stata fatta. È un altro 6 agosto di passione per i parenti delle vittime della tragedia dell'ATR72 che nel 2005 causò la morte di 16 persone e il ferimento di altre 23. Di quei 16, 14 erano pugliesi, tra cui 6 baresi, un uomo di Bitonto e una donna di Modugno. Un incidente non frutto di una tragica casualità ma di un preciso errore umano. L'ATR72, partito da Bari e diretto a Gerba, in Tunisia, precipitò nelle acque di Capogallo, a largo di Palermo. Nello schianto l'aereo si spezzò in tre tronconi. Secondo quanto stabilito nel processo, i motori del velivolo, che trasportava 34 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, si spensero perché erano a secco e nessuno se ne accorse. Sull'aereo, infatti, erano stati montati indicatori di carburante di un altro modello di ATR. Nonostante questo, l'aereo avrebbe avuto la possibilità di atterrare a Palermo, ma il pilota, il tunisino Chafik Garbi, proseguì il volo, causando l'ammaraggio a largo di Capogallo. I sette imputati al processo, tutti i tunisini, furono accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime. Nel marzo 2013, la sentenza definitiva della Cassazione, 6 anni e 8 mesi al comandante Chafik Garbi, 6 anni all'altro pilota Alik Bayer, al direttore generale della Tuninter Munsef Zuhari e al direttore tecnico Zuhair Cetuan. Condannati a 5 anni e 8 mesi il responsabile del reparto di manutenzione Siala Zuhir, il meccanico Nebil Shahid e il responsabile della squadra manutenzioni Ruma Balhai. Pene definitive mai eseguite perché i colpevoli sono ancora in Tunisia. Le procedure di estradizione sono state attivate, ma il paese magrebino non ha mai risposto al ministero della giustizia italiano. Per questo i parenti delle vittime, ricordate oggi a Bari con una messa celebrata nella chiesa di San Sabino e una cerimonia di fronte alla stelle commemorativa nel parco Perotti, sul lungomare, chiedono al governo italiano di accelerare le procedure, per non dovere, come dicono, paradossalmente invidiare paesi come l'India, che pur illegittimamente hanno la forza di trattenere i due marò italiani.